Si chiama Vaishnavi Laxman, è una donna di 41 anni d'età e pensate che avrebbe tirato troppo il neonato durante il parto e avrebbe decapitato il bambino. La dottoressa sarebbe stata iscritta come una validissima professionista dell'NHS che avrebbe addirittura letteralmente staccato la testa dal resto del corpo del bambino che stava aiutando a nascere. Questo sarebbe accaduto, ci troviamo per la precisione negli Stati Uniti d'America, o meglio in Scozia, quindi non negli Stati Uniti d'America. E il San ci fa sapere che la donna si sarebbe recata al Nine Wealth Hospital di Dundee in Scozia per un partito di Gelsa, visto che il piccolo era in una posizione chiamata pudarica. Sebbene ciò avrebbe fatto tutto e quello che sarebbe arrivato sarebbe stato che per colpa probabilmente di una manovra sbagliata o una manovra errata, il bambino nascitore o nascitore purtroppo avrebbero avuto la testa mossata. Vi ringrazio allora per l'ascolto in primis per la visione in secondi del presente video. Iscrivetevi se vuoi nei commentari, un saluto buono e al prossimo dato che vediamo.